Lo sapete che esistono quattro tipi di mercati finanziari? I mercati finanziari svolgono un ruolo molto importante nell'aiutare le imprese a raggiungere i loro obiettivi e a far progredire le economie. Quando parliamo di imprese non dobbiamo pensare solamente alle aziende del nostro territorio, ma le stesse Apple, Amazon, Tesla e così via sono aziende semplicemente più grandi che fanno ricorso ai mercati finanziari per crescere e svilupparsi. Il primo è il mercato di capitali. Si concentra su investimenti di lungo termine, come ad esempio le azioni e le obbligazioni, che hanno tra loro un rischio e un rendimento chiaramente molto diverso. I secondi sono i mercati monetari. Sono quelli che si occupano di gestire le disponibilità nel breve termine e utilizzano strumenti come ad esempio i conti deposito, i certificati di deposito e i titoli di Stato. Il terzo riguarda il mercato dei cambi e comprende tutti gli scambi valutari, quindi nelle diverse monete, di tutti i paesi del mondo. Il quarto è il mercato dei derivati, comprende i future, le opzioni, gli swap e serve soprattutto alle aziende che hanno un mercato internazionale.